Il governatore Acquaroli conferma le marche tornano in zona gialla da lunedì 21 febbraio. Pagamenti ingannevoli, cani di razza e merce mai consegnate e richiesta di dati sensibili denunciate per truffa a 5 persone nella provincia pesarese a Fano. Nei guai un uomo del posto accusato di ricettazione. I carabinieri trovano 3 bici rubate e ora si cercano i legittimi proprietà. Caro bollette, Confcommercio Marche Nord consegna al prefetto un documento per il presidente Draghi. Servono misure urgenti, le imprese sono al collasso. Intanto l'associazione Codici apre uno sportello di consulenza online per trovare l'offerta migliore. Le marche verso Expo Dubai 2020. L'eccellenza regionale mostra da lunedì per la settimana del cibo e dell'agricoltura. Il vicepresidente Mirko Carloni spiega gli obiettivi e illustra gli eventi. Un solo marchio per lanciare le imprese nei mercati internazionali. A Fano una mostra di libri con la stesura inedita di un inno di Ungaretti. L'esposizione alla chiesa di Sant'Arcangelo durante la decima edizione di Passaggi Festival. Berfiori annuncia sarà un'edizione ricca di sorprese. Buonasera e benvenuti al nostro telegiornale. Apriamo con la notizia che è arrivata nel tardo pomeriggio di oggi. Come ha annunciato il presidente della regione Marche, Francesco Acquaroli, in un posto pubblicato su Facebook. Torniamo in zona gialla dal lunedì prossimo, 21 febbraio. Il governatore ha riportato anche i dati odierni di occupazione dei posti letto. Cioè il 12,8% di ricoveri in terapia intensiva e il 27,7% in area medica. E dal 28 di febbraio la certificazione di esenzione dal vaccino anti-covid dovrà essere in formato digitale. Chi possiede quello cartaceo valido fino al 27 febbraio deve quindi richiedere la nuova certificazione con il QR code con validità su tutto il territorio nazionale. L'attestazione di esenzione è rilasciata a titolo gratuito e su richiesta dell'assistito dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta e dai medici vaccinatori delle strutture sanitarie pubbliche e private. Ne hanno diritto tutti coloro che per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate non possono essere vaccinati o per cui la vaccinazione debba essere differita. Alla certificazione è associato un codice univoco, il CUEV, con il quale si potrà scaricare l'esenzione digitale. Poi tramite messaggio e email verrà inviato ai recapiti indicati dall'assistito un codice out code che può essere utilizzato in alternativa. In caso di sopravvenuta positività al virus anche le certificazioni di esenzione sono revocate ma poi verranno riattivate automaticamente con la guarigione. Ed ora passiamo al caro Bollette perché questa mattina Confcommercio Marche Nord ha consegnato un documento al prefetto da inviare al governo Draghi. Dopo essere sopravvissuti al virus non vogliamo e non possiamo morire a causa del caro Bollette. Le imprese della provincia di Pesero Urbino sollecitano il governo attraverso Confcommercio Marche Nord. Questa mattina il direttore Amerigo Barotti ha consegnato al prefetto Tommaso Ricciardi dei documenti da recapitare al presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi e al ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti. Nel dossier sono state allegate alcune bollette, una mini rassegna stampa e un documento nazionale per mostrare nero su bianco gli effetti dei rincari. Raccontiamo quello che è il dramma delle imprese, del commercio, del turismo e dei servizi della nostra provincia che da un anno all'altro si vedono le bollette energetiche aumentate di circa il 200%. Nessuna azienda è in grado di gestire la propria sopravvivenza o fare programmi di sviluppo quando da un anno all'altro si trova degli aumenti così incontrollati ed esagerati. Quindi chiediamo al governo un intervento immediato anche con uno scostamento di bilancio perché l'intervento deve essere forte in termini di importo e non i panicelli caldi che fino ad oggi il governo Draghi ha fatto. Chiediamo anche un intervento serio sulla revisione delle bollette, visto che la maggior parte del costo, il 70% sono oneri di sistema decisi dallo stesso governo tramite ARERA, tramite l'autorità di gestione dei servizi gas e energia elettrica con una riduzione dell'IVA dal 22% al 10% in modo da dare la possibilità alle aziende di sopravvivere. Questa grave situazione, ha proseguito Varotti, si somma alle problematiche legate all'emergenza sanitaria e si rischia, come ha detto anche il presidente dell'Emilia Romagna, un lockdown economico con la chiusura di tante aziende, soprattutto nel settore dei servizi e in quello del turismo. L'aumento esponenziale dei costi di gas e di energia elettrica e carburanti, mettiamoci anche i carburanti, inevitabilmente sta determinando un aumento dell'inflazione che è già oltre il 5% nel mese di dicembre e che inevitabilmente si riverbera poi sui prezzi finali, sui prezzi al consumo, nei ristoranti, nei negozi, nelle botteghe artigiane e inevitabilmente si riverbera sulle famiglie, le famiglie che a loro volta sono già colpite dall'aumento dei costi energetici e che subiranno ancora l'aumento dei prezzi. Ulteriore elemento per la desertificazione delle nostre città con la chiusura di tante attività commerciali. Insomma, è una catena terribile che bisogna che il governo tamponi, intervenga rapidamente. Sono altrettanto necessari per il direttore interventi efficaci per andare verso un'autonomia dal punto di vista energetico, visto che l'Italia dipende molto dall'estero per l'approvvigionamento di gas ed energia elettrica. Con tutti gli aumenti diventerà una situazione con un'inflazione importante, quindi non ci sarà potere d'acquisto e già lo abbiamo visto proprio sul campo che non c'è gente in giro, non va ad acquistare, proprio perché saranno aumentati e aumenteranno tutti i prodotti primari, quindi le materie prime. Di conseguenza, chiaramente, la gente farà meno di quello che può essere poi superfluo. Ma in questo momento noi chiediamo anche proprio alle amministrazioni comunali di intervenire anche su quello che è possibile sul territorio, quindi sicuramente sull'Atari e sull'acqua. Quindi prevedere una spesa che possa aiutare le nostre imprese, perché ancora siamo in pandemia. Cerchiamo di uscirne, proveremo, riusciremo, speriamo, ma abbiamo bisogno di andare avanti, di non chiudere, cioè di non poter dire allora dopo la pandemia ci sarà una morte economica e questo non è possibile. E i rincari stanno mettendo in difficoltà tanti consumatori. Proprio per fornire un aiuto in questo momento così complicato, l'Associazione Codici ha deciso di attivare uno sportello di consulenza online sulle tariffe energetiche. Delle vere stangate sui prezzi di luce e gas. Il caro bollette è diventato ormai un tema quotidiano al centro dell'attenzione di famiglie e imprese che si trovano a far fronte a pagamenti sempre più salati, spesso insostenibili. Se da una parte si attende un'azione del governo col nuovo decreto sostegni, dall'altra le associazioni di categoria si battono per tutelare gli utenti chiedendo interventi immediati e concreti, oltre ad offrire un supporto di consulenza sulle tariffe energetiche. È il caso dell'Associazione Codici che ha aperto a questo scopo uno sportello. Davide, quante segnalazioni state ricevendo dai vostri associati? Qual è la situazione? Guarda, la situazione purtroppo è da punta dell'iceberg. Nel senso che ovviamente in questi mesi abbiamo sentito le notizie sull'aumento dei costi dell'energia, ma nessuno aveva ancora ricevuto le bollette, perché erano tutte riferite a mesi precedenti. Ora, da un mese a questa parte, cominciano ad arrivare le segnalazioni da parte dei cittadini che più che altro chiedono cosa possono fare perché si trovano davanti a bollette che hanno addirittura raddoppiato il loro costo. I rincari rischiano di mettere in ginocchio, in particolare, le piccole imprese e quei cittadini che erano già in difficoltà economica. Che cosa si può fare adesso? Sì, diciamo che il rischio di derive di nuove povertà è molto alto. Cosa si può fare adesso? Allora, purtroppo chi non aveva sottoscritto un contratto a cosiddetto prezzo bloccato, per cui non influisce l'andamento del costo della materia prima, dovuto naturalmente a fattori che non dipendono dall'Italia, e quindi purtroppo quello che possiamo fare è semplicemente cercare di aiutare il consumatore a cambiare la tariffa. Altre soluzioni sono quelle del risparmio, ma quello si può fare fino a un certo punto. Come sappiamo l'energia elettrica ha un costo differente a seconda della fascia oraria, però quello che concretamente si può fare per ridurlo è solamente cambiare, se possibile, il proprio fornitore. E anche voi avete messo a disposizione uno sportello per aiutare le persone? Sì, abbiamo semplicemente pensato di utilizzare un consulente che da anni affronta queste problematiche attraverso l'utilizzo di un sistema riconosciuto dalla legge perché è dall'autorità per l'energia elettrica e il gas, quindi è il cosiddetto portale offerte. Quindi il nostro consulente non fa altro che prendere la vostra bolletta, controllare i dati, inserirli all'interno del portale delle offerte della Rera e trova l'offerta, se esiste, più conveniente rispetto a quella che è attualmente applicata dal contratto, evitando naturalmente sia compagnie poco conosciute che potrebbero portare poi a un secondo problema, ovvero la compagnia fallisce e si finisce nel FUI, nel fornitore di ultima istanza, che ha prezzi astronomici e anche andando a cercare le condizioni contrattuali più corrette per il consumatore. Quindi niente fregature e un costo più economico per quello che è possibile. I carabinieri della compagnia di Pesaro hanno denunciato 5 persone per diverse truffe commesse nei mesi scorsi. È stato individuato un cinquantenne laziale quale presunto autore di un raggiro ai danni di una donna che aveva messo in vendita su un sito internet un paio di scarpe per 30 euro. Fingendosi interessato all'acquisto, il truffatore era riuscito a convincere la vittima, recarsi a un postamat per ricevere il pagamento. Invece con l'inganno le aveva fatto effettuare a suo favore diverse ricariche poste pay per un totale di 1650 euro. I militari hanno rintracciato anche il presunto autore di una finta vendita online di un triciclo artigianale costato 75 euro, ma mai ricevuto. Mentre a Gabicemare è stata identificata una donna che avrebbe finto di vendere un cane di razza costato 150 euro, ma anche in questo caso mai consegnato all'acquirente. Invece i carabinieri della stazione di Montecchio hanno scoperto una truffa che vedeva come complici un milanese e un pakistano. Con l'uso di un centralino virtuale si erano finti operatori del servizio di sicurezza della banca di cui la vittima è cliente, convincendola a effettuare varie operazioni di pagamento a loro favore. Le forze dell'ordine ricordano di non fornire alcun dato sensibile e di rivolgersi alle proprie filiali o ai contatti ufficiali in caso di dubbi. Le eccellenze delle Marche saranno in mostra all'Expo Dubai 2020. Unica sarà l'immagine della regione così come il marchio, il brand con il quale le imprese si presenteranno sugli scenari internazionali. Filippo Pucci. Le eccellenze marchigiane sotto i riflettori dell'Expo. Una delegazione della regione Marche guidata dal vicepresidente e assessore alle attività produttive Mirko Carloni sarà presente a Dubai dal 21 al 26 febbraio con uno straordinario calendario di eventi delle imprese marchigiane. Un'occasione unica e ripetibile per rinnovare ancora una volta la già solida amicizia che lega le Marche a Dubai sin dal 2005, guardando però al futuro. Abbiamo fatto in modo di sfruttare Expo Dubai 2020 scegliendo la settimana dell'agricoltura e del cibo e abbiamo fatto anche un bando che prevede un criterio, quello della sussidiarietà cioè abbiamo fatto presentare agli imprenditori dei progetti di business che gli interessavano a loro dentro quello scenario, non solo dentro l'Expo ma anche fuori dall'Expo. Quindi abbiamo previsto diverse iniziative che hanno partecipato a un bando ripeto, si sono aggiudicati un contributo del 60%, noi abbiamo dato supporto tecnico abbiamo fatto un'immagine coordinata con anche un'operazione di branding con il logo Expo Dubai che noi abbiamo ripreso in un altro modo abbiamo scritto Marche Land of Excellence. Terra dell'eccellenza è esattamente il sinonimo di bellezza perché noi viviamo le capacità dei nostri produttori, degli artigiani, degli agricoltori di chi fa beni di precisione, fa mobili, fa fashion oppure produce il cibo lo fa con l'eccellenza, col senso dell'eccellenza perché è contaminato dalla bellezza di questa regione. Sarà una grande opportunità, ha proseguito Carloni che sfrutteremo con progetti e iniziative correlate da una sola immagine della regione e con un marchio con il quale appronteremo in tutti i mercati esteri. Quel marchio, Land of Excellence, sarà il marchio identificativo del nostro territorio purtroppo, troppo spesso, quando si è all'estero specialmente negli teatri internazionali non europei la regione Marche non è conosciuta e quindi noi abbiamo un problema identitario da risolvere in modo che i nostri produttori, quando vanno all'estero e dicono sono delle Marche, possano ricevere un beneficio perché viene percepito come un prodotto di alta qualità e di eccellenza. Dubai sarà anche l'occasione per fare sistema con le università, le imprese e la Camera di Commercio. Saranno due, ha concluso poi l'assessore, le operazioni che ci aspettano. Una di mattina sarà fatto un accordo con le massime autorità emiratine che si occupano di business con cui creeremo un memorandum d'intesa per fare azioni future di scambio e di rafforzamento su quel teatro economico. Come sapete Dubai non è soltanto una piazza importante ma è un hub per tutto il Medio Oriente quindi è fondamentale che le Marche si qualificano e riprendano un'antica amicizia che c'era e che è stata interrotta negli ultimi anni. L'altra operazione viene presentato per la prima volta il distretto del biologico marchigiano ed è un grande valore aggiunto. Avevamo promesso a chi ha aderito a quel distretto del biologico che avremmo sfruttato, l'Expo Dubai, per dargli visibilità e così verrà fatto sempre lunedì mattina all'interno del padiglione Italia dell'Expo Dubai. Ancora cronaca, i carabinieri di Fanno hanno denunciato un uomo del posto per ricettazione sottoposto a sequestro tre biciclette rubate al fine di individuare i legittimi proprietari. L'arma si avvale di una banca dati inserita nel sito istituzionale www.carabinieri.it dove tutti i cittadini possono cliccare su In vostro aiuto, servizi, banche dati e poi oggetti rinvenuti. Chi ritiene di aver individuato i propri oggetti si può rivolgere al comando indicato nel link di riferimento e poi esibire la denuncia di furto oppure di smarrimento. Sarà un'edizione ricca di personaggi e contenuti culturali per omaggiare i dieci anni di Passaggi Festival. Lo assicura il direttore Giovanni Belfiori che abbiamo incontrato per scoprire le altre novità della prossima edizione. Ora è tutto da dimostrare ragazzi, queste sono parole. Dopo aver svelato alcuni ospiti come l'ex capo della polizia e sottosegretario di Stato Franco Gabrielli ed aver annunciato l'aumento delle sedi nel centro storico ma anche all'Arzilla e a Fosso Seiore il direttore di Passaggi Festival Giovanni Belfiori torna a raccontarci della prossima edizione dell'evento che si svolgerà a Fano dal 20 al 26 giugno. Il decennale, assicura, sarà ricco di sorprese. C'è da tempo questa idea di espandersi nella regione? Centrerete l'obiettivo quest'anno? Purtroppo no, per il solito problema è mancanza di soldi. Noi facciamo una gran fatica, abbiamo chiuso in passivo l'anno scorso e quindi quando uno chiude in passivo vuol dire che l'anno dopo devi andare a pareggio, non ci sono cavoli. E inoltre dobbiamo anche cercare di far fronte a un'edizione che sarà ricca perché in qualche modo vogliamo festeggiare i nostri dieci anni e quindi ci saranno anche dei segni delle fotografie e altri contenuti della città che ricorderanno gli eventi dal 2013 a oggi. È anche un modo di, come dire, gratificare lo staff che ha lavorato per tanto tempo a Passaggi Festival. Però ci sarà una sorpresa, ancora è da definire, cioè ci sarà probabilmente un allungamento di Passaggi Festival, nel senso che inizierà qualche giorno prima perché non è improbabile che ci si sposti anche in un altro comune. E potrebbe essere un'idea perché noi abbiamo comunque diversi comuni della vallata che guardano a Fano con attenzione, ci potrebbe essere uno scambio interessante. Però state lavorando anche su un'altra chicca, un'esclusiva? Sì, è vero, è vero. Come sempre Passaggi Festival non soltanto propone presentazioni librarie che sono naturalmente il fulcro dell'attività, propone anche laboratori, propone conversazioni scientifiche, quelle della Sala da Te e Lucelli in Belverde che hanno un loro pubblico ormai fedelissimo, ma propone anche delle mostre che sono curate da Paola Gennari e quest'anno c'è una mostra molto bella, molto particolare. E sono ormai due anni, svela Belfiore, che cerco di organizzarla perché è una mostra che stiamo costruendo ed allestendo in autonomia. Cioè non è che abbiamo preso un format di mostra e lo abbiamo portato a Fano, ce lo stiamo inventando. È una mostra molto particolare, non sono quadri, non sono sculture, non è arte figurativa, sono libri. Libri di una biblioteca molto particolare, è una biblioteca di famiglia, adesso non la racconto per non farla lunga, che ha una storia interessante, affascinante, a volte anche misteriosa, è la biblioteca della famiglia del direttore dell'ANSA Luigi Contu. In questa biblioteca, ha proseguito il direttore, sono stati ritrovati dei materiali straordinari. Tra l'altro questa mostra ha il patrocinio ufficiale dell'Ambasciata di Francia. Perché ci sono dei carteggi originali tra il nonno del direttore dell'ANSA, che si chiamava Raffaele Contu, Giuseppe Ungaretti e Paul Valery. Non solo, ma scartabellando in questa biblioteca, che è immensa, sono migliaia e migliaia di volumi, è stato trovato un inedito, una stesura inedita di Giuseppe Ungaretti, di uno degli indi, Giuseppe Ungaretti, che sarà portato a Fano in esposizione alla chiesa di Sant'Arcangelo. Quindi avremo davvero anche una chica molto particolare. Certo, ripeto, non sono quadri, è un approccio più difficile visitare una mostra di libri, anziché di arti figurative, però noi ci proviamo. Dagli eventi futuri a quelli in corso, perché a Fano oggi ha preso ufficialmente il via alla settimana grassa del Carnevale di Fano. Oggi abbiamo inaugurato alle 18 la sala di rappresentanza della Fondazione Cassa di Risparmio questo libro di Raffaele Lamanna e Silvano Clappis, che è edito tutti gli anni, sui giovani maestri carristi. Abbiamo voluto fare un focus su chi ora lavora al Carnevale e che nonostante tutto ancora resiste. E adesso, tra poco scappo, vado a cena alla Mensa di San Paterniano perché il Carnevale vuole essere vicino comunque al sociale. Noi, come si sa da sempre, siamo vicini alla Mensa di San Paterniano e tutto quello che fa per le persone in difficoltà. E quindi stasera abbiamo organizzato una cena di beneficenza alla Mensa di San Paterniano. Domani inauguriamo alle ore 19 la mostra del nostro grande artista, artista dico in toto, Pierluigi Piccinetti. La mostra è divisa in due momenti, nella sala di Palazzo Bracci Pagani in basso è la mostra organizzata dall'ente carnevalesca sul Piccinetti carrista e nelle sale sopra invece il Piccinetti artista con degli inediti veramente eccezionali. Quindi non mancate perché la mostra comunque starà aperta fino a primo marzo dalle 17.30 alle 19.00 a tutti i giorni. Domenica mattina alle ore 11 Fano TV trasmetterà la Santa Messa dalla chiesa di Tavernelle di Colli al Metauro. La diretta sarà visibile sul canale 17 del Digitale Terrestre ma anche sulla pagina Facebook Occhio alla Notizia. Lunedì sera invece, subito dopo il telegiornale Occhio alla Notizia torna primo cittadino e l'ospite sarà il sindaco di Valefoglia Palmiro Ucchielli. Grazie per aver seguito il nostro telegiornale l'informazione torna domani mattina alle 7 insieme a Massimo Foghetti che leggerà insieme a voi i giornali. Arrivederci.